Vediamo che già sta arrivando l'allenatore dell'Aquila, Roberto Cappellacci. Allora, mister, siamo in diretta a questa partita. Sì, grazie, noi comunque siamo a distanza, però è sempre... Partita sofferta, buono il primo tempo dell'Aquila. Avezzano che è venuto assolutamente non a chiudersi, ha fatto un'ottima partita. L'istantanea che ha deciso la partita, lo dicevo con il collega Massimo Profeta, la parata di Domingo Dalmasso al 49esimo, forse un po' troppa sofferenza nel finale per il Rosso-Blu. Sì, diciamo, innanzitutto che è stata una partita equilibrata, giocata tra due squadre che si equivalgono e che, diciamo, gli episodi iniziali potevano cambiare l'esito della contesa. Noi nella prima parte abbiamo fatto benino e quindi anche il vantaggio, seppur doppio, magari poteva non starci, però noi il vantaggio in quel momento l'avevamo meritato e nel secondo tempo pensavamo che se fossimo stati bravi nei primi 20 minuti avremmo potuto magari chiudere la partita o comunque togliere qualche velleità a loro, che rimanevano comunque una squadra molto forte. Purtroppo non siamo stati capaci, vuoi anche per la loro bravura, vuoi perché ci siamo sporcati giocando palle un po' alla rinfusa, la partita si è fatta maschia e quindi noi purtroppo questo tipo di partita poi le soffriamo ed è un nostro demerito, voglio dire. È vero poi che nella parte finale avremmo potuto prendere gol e il nostro portiere ha fatto un intervento fuori dal normale e così poi si è vinto questa partita, che ripeto è stata una partita ben giocata da tutte e due le squadre dove forse nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi e nel secondo tempo loro sono venuti fuori con forza e con qualità. Forse inconsciamente Mister si era già cominciato a pensare a quello che sarà l'infrasettimanale di mercoledì, anche questi tempi compressi talvolta poi ci sta che uno possa cominciare già a pensare a quello che verrà. No, no, assolutamente, in mezzo al campo non si pensava assolutamente a quello che verrà. Noi sapevamo che i primi 20 minuti del secondo tempo sarebbero stati determinanti per il risultato finale e non siamo riusciti a prendere la partita in mano come magari ce l'avevamo seppure a tratti nel primo tempo. Di conseguenza poi abbiamo cominciato a soffrire, poi quando si fanno i cambi a volte le cose migliorano, invece oggi le cose peggioravano, nel senso che non riuscivamo nonostante l'ingresso di Michele Bisegna, di Catalli, comunque insomma gente di esperienza, gente di qualità, purtroppo la palla non siamo riusciti più a metterla a terra, abbiamo sofferto la loro aggressività e la partita è andata così, però onestamente la testa era per la partita perché poi soprattutto dopo il loro gol che ha dimezzato le distanze, sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire se non trovavamo in qualche maniera il gol che comunque non abbiamo meritato di trovare nel secondo tempo. Nota di merito tra gli altri per Rosano, tanta qualità, tanta corsa, abbiamo detto con i colleghi talvolta sembrava avesse un polmone supplementare il numero 10. Sì, sì, Rosano è un ragazzo che è forte, che gioca poco per quello che vale, oggi è giocato, ha dimostrato il suo valore ma nessuno di noi ha dubbi sulle sue qualità tecniche e morali. La chiave probabilmente è stata, mister, riuscire a rimanere con la testa, come ha detto lei, anche la lucidità nell'ultimo passaggio, nell'ultimo minuto di gioco per arrivare al 3-1. No, dai, quello è stato episodico, era venuto ad assaltare pure il portiere, noi venivamo da una situazione dove il nostro partiere ha fatto questo miracolo, c'era questo calcio d'angolo, poi c'è stata una ripartenza, loro non sono neanche stati fortunati quando stavano per recuperare palla e abbiamo trovato il gol all'ultimo respiro, ma non ha nessun senso quel gol. La partita per me è finita 2-1 e per fortuna è finita 2-1. Ultima domanda, mister, ma isto non nella lista dei convocati, infortunio, scelta tecnica, cosa è successo? Ma niente di particolare, sono scelte che si fanno, insomma, tocco un po' a tutti con una rosa ampia.